Alla fine, la decisione rimandata per anni appesa al filo di un'inchiesta della magistratura è arrivata. L'unità di terapia intensiva neonatale del Fazia è il suo primario. E Giuseppe Presta, finora in forza al panico di Tricase, la delibera dell'asla di Lecce è arrivata in mattinate ed ha seguito in realtà le conclusioni a cui la commissione giudicatrice era arrivata già due anni fa. Lunga e sofferta la procedura concorsuale indetta nel novembre del 2008 è finita sotto la lente della magistratura nel 2011. Il 7 maggio scorso è arrivata l'archiviazione dell'inchiesta per abuso d'ufficio, omissione o rifiuto di atti d'ufficio, ma il GIP Cinzia Vergine aveva comunque nelle quattro pagine di motivazioni segnalato presunti irregolarità amministrative. È sulla base di queste che l'asla stava valutando anche la possibilità di revocare il concorso e di indirne un altro, oggi la virata. Il direttore generale dell'asla di Lecce, Valdomellone, conferma che il curriculum di Presta vanta numerose attività di aggiornamento, insegnamento e ricerca, nonché partecipazioni a congressi e corsi di aggiornamento tecnico professionali finalizzati alla formazione all'aggiornamento professionale all'avanzamento nella ricerca scientifica. È, tra l'altro, istruttore di rianimazione neonatale della Società Italiana di Neonatologia. Ma non è questa l'unica novità sul fronte materno infantile. A seguito del pensionamento del dottor Silvio Pozzi, pur non potendo avviare nuove procedure concorsuali per via della stretta regionale, è stato comunque nominato nuovo direttore d'EQUA dell'unità operativa di pediatria del Fazzi, il dottor Pietro Caprio, che si sposta a Lecce da Copertino, dove la direzione è stata invece affidata ad Interim a Raffaele Montinaro, già primario del medesimo reparto dell'ospedale Santa Caterina Novella di Gelatina, e ora con la facoltà di nominare un vicario su entrambe le sedi, dove l'organico sarà comunque incrementato di un'ulteriore unità medica.